Grazie a tutti. Sono andato in Italia a giocare già da un anno e mezzo e ho guardato sempre con molta attenzione la Serie A, sia personalmente che nelle partite in televisione. Sono curioso di poter vedere quello che riesco a dare in campo, ma sono sicuro di poter aiutare molto questa squadra. Non sono molto preoccupato dal discorso fisico, dagli anni del college mi sono sempre allenato per poter arrivare a giocare a questi livelli, quindi penso di poter giocare a questo alto livello e poter fare il meglio possibile.